Ciao a tutti, oggi parliamo dell'ultimo ritrovato top di gamma Casa Colmich per quanto riguarda il surfcasting, 07 WR. WR sta per Water Resin, la tecnologia che è stata utilizzata per permettere alla resina una penetrazione ottimale nelle fibre di carbonio. Ciò garantisce compattezza e robustezza all'attrezzo. Un attrezzo che possiede anche una componentistica al top, quindi anelli Fuji Alconite. Inoltre, come tutti i top di gamma di Casa Colmich, possiede un seriale che possiamo ritrovare in questa posizione, il che rende il prodotto un pezzo unico. Una vetta riportata rende l'attrezzo incredibilmente sensibile anche con le zavorre più pesanti. Io l'ho scelta nella misura 4,50 m, ma è disponibile anche nella misura 4,20 m, in un range di casting, tutte e due, 100 g, 250 g. Un saluto a tutti! Un saluto a tutti!